Salve a tutti e bentrovati. Ci troviamo qui in compagnia di tante donne e in particolare della giornalista Francesca Borri che ci presenta un reportage davvero curioso sulla condizione di vita della popolazione alle Maldive, ma quale paradiso tra i jihadisti delle Maldive. Vedremo un ritratto ironico, pieno zeppo di contraddizioni, un volto inedito, tutto musulmano, del popolo maldiviano. Vediamo inoltre, sempre per parlare di Islam, invece compiamo un escursus molto molto interessante, quelle che sono le scrittrici iraniane dal XIX secolo a oggi, le figlie di Shalazà e vedremo. Tornando alle Maldive, che dirvi? Che intanto sono un arcipelago di 1192 isole e lo si pensa un paradiso e lo è in effetti per i turisti, per gli occidentali, la popolazione però è concentrata a Malè, la capitale, che è sovraffollata, che è poverissima e il cui problema non sembra essere tanto l'Islam, oppure chiariamo l'Islam viene in qualche modo manipolato, utilizzato, diventa il mezzo per far sì che l'argomento principe, diciamo, per far sì che il potere rimanga concentrato, quindi in realtà è una strumentalizzazione della religione, del Corano, dei principi dell'Islam, per rimanere in realtà, per far sì che il potere rimanga concentrato al governo, a un sistema politico che spalleggia gli imprenditori locali, che ha fatto sì proprio che nascano questi resort bellissimi, costosissimi e che il resto invece della popolazione abbia a che fare con estrema povertà, con criminalità e con droga. Questi sono i problemi, eroina, criminalità. Negli anni 70 Gaiom salì al potere e giustificando ogni sua decisione come se fosse stata attinta direttamente dal Corano e quindi vedete qui la strumentalizzazione e si inventò questa formula dei resort, dei villaggi per modernizzare il paese che da terzo mondo divenne indiscutibilmente un primo mondo, ma non per la popolazione. Un popolo trasformato in camerieri, autisti, con nessuna o pochissima interazione con gli occidentali. Quindi una grande disuguaglianza, sacche di povertà, le ricchezze appunto concentrate in mano di pochi, come ogni sistema capitalistico molto distorto arriva a portare. E la politica è il primo lusso, è il primo lusso che un povero non può permettersi. Qui la Borri è molto chiara nel dire che le Maldive non sono il biaffra, quindi non si soffre la fame, non c'è un problema di guerra, di guerriglia interna o delle situazioni gravi, estreme, come possono essere altri paesi asiatici o ancora africani. Ma questa pseudo-democrazia, questa democrazia fantoccio che fino a 2008 è stato al potere Gaillon, poi c'è stato un colpo di Stato di un oppositore che però si è dimesso dopo pochi anni e poi è subentrato il fratello di Gaillon. Quindi in realtà un'immobilità politica, una situazione comunque che è rimasta in questi termini. E le Maldive, ecco, si trovano a, proprio se si vuole andare a vedere come vive la popolazione, questi mangiano, non soffrono la fame, non fanno la guerra, però non possono permettersi di protestare perché non possono andare a manifestare in un corteo, verrebbero presi, portati in gattabuia e non avrebbero i soldi per pagarsi la cauzione, il riscatto e tornare fuori. Quindi è un lusso veramente la politica che non ci si può permettere. In realtà vi è una condizione di sudditanza, di servilismo, parliamo quasi di semischiavitù. Anche perché mal è sovraffollata e gli stipendi sono chiaramente proprio poverissimi. Addirittura non ci si riesce a pagare le cure mediche e chi si ammala deve andare a Sri Lanka e quindi anche la sanità è un ennesimo lusso. Ma non c'è neanche protezione da parte della polizia, che anzi sembra essere proprio contro la popolazione, vessando la popolazione e facendo sì che le cose rimangano in questi termini. Ma inoltre, ancora per parlare di una problematica grossa, è legata anche proprio al sistema economico. Perché è vero, c'è questa fonte di reddito grandissima che è legata al turismo e quindi clima bellissimo, natura stupenda, mare cristallino, la popolazione dovrebbe nuotare nell'oro grazie a questo paradiso. E invece si trova a nuotare in ben altre tristi acque, per non dire altri liquami. Perché? Perché in realtà i proventi del turismo vanno in mano ad altri e non vengono distribuiti equamente alla popolazione e quindi si crea veramente una situazione di ineguaglianza, di diseguaglianza vergognosa. Ma anche le Maldive non producono nient'altro, non ci sono altri sistemi produttivi, solo conchiglie, sabbie e denti di squalo, dice la Borri. E non hanno nemmeno una cucina locale. Le Maldive, che potrebbero essere come Dubai, 350.000 abitanti che potrebbero proprio sguazzare nell'oro, e invece, appunto, come vi dicevo, non si possono pagare le cure. La vita, il tenore di vita è quello del Burundi, con i prezzi degli appartamenti a Malè che sono pari a quelli londinesi. Quindi, vedete? E passiamo anche a un altro tema. La popolazione, che vive quindi in questo modo qui, in una situazione di segregazione e di finta democrazia, una democrazia fantoccio, che si nasconde dietro al Corano, la popolazione legge questo aspetto estremamente interessante, assai eloquente proprio quello che vi vengo a riportare, in quanto viene detto proprio c'è solo una libreria islamica, un paio di isolati dopo il centro, ed è anche una libreria molto bella, molto ordinata, col parquet di quelli che cigolano, solo che a parte i libri in arabo e un paio di libri in inglese, è tutto in Dubai, la lingua locale. Perché poi ti dicono, l'inglese è la lingua universale, e invece l'inglese è ancora la lingua di una minoranza. è di una minoranza spesso ricca e bianca e laureata. Ti dicono, tanto ormai c'è Google Translate, e invece il di vai non c'è su Google Translate, non c'è da nessuna parte. e poi ancora, rivolgendosi al commesso di questa libreria, la Borri dice, guardo il commesso, Jihad, sistemo libri di Jihad e sono da te, un minuto. Jihad, sì, mi guarda, non significa mica guerra, significa sforzo, lo sforzo di vivere secondo la volontà di Dio, con coerenza, secondo i tuoi valori. Jihad è tutto quello che ti rende un bravo musulmano, o una brava persona, dice, se la parola musulmano ti allarma. Quindi sembra che il problema non sia l'Islam, almeno non è così sentito dalla popolazione. Però a Malè non c'è, non c'è neanche la possibilità di leggere, di documentarsi, c'è questa unica libreria a cui può accedere una minoranza, essendo i libri nella stragrande maggioranza di lingua inglese, e non c'è nemmeno la polizia, la protezione che la polizia può offrire. Quindi in una situazione di diseguaglianza, di povertà, eroina, criminalità, ci sono solo delle gran gang dove lavori e cosa rimane? Eroina, masticare colla, un intruglio che si chiama colla a water, una Pepsi, mista acqua di colonia, praticamente svieni, così viene detto. Le Maldive quindi sono un paradiso di bellezza, un paradiso climatico, sei in mezzo all'oceano, ma senza un cinema, senza un parco, un teatro, un concerto, niente di niente. A Labori viene detto e ripetuto, non sei in Siria? Sei alle Maldive? Brava, rilassati! Perché appunto è da tutti risaputo che esso è una località paradisiaca. I fatti, i turisti, pagano 300 dollari per un aperitivo. Un Maldiviano lavora e non riesce neanche a pagarsi il dentista o l'affitto. Solo un musulmano può essere Maldiviano. È vietato possedere una Bibbia o una Torah. C'è anche questo aspetto. Quindi vedete, carenza di libertà, vera e propria, anche non solo politica, ma anche religiosa. Quindi vengono negati tutti i diritti, nonostante si dica che è una democrazia. A scuola la materia principale è praticare l'Islam. Tra cemento e violenza, obbligo fino a 16 anni e poi buttati in strada. Tra le gang, che sono le organizzazioni sociali dei ventenni. Ogni gang è legata a un politico, ogni politico ha un imprenditore che si intasca ai dollari, milioni di dollari e si compra il silenzio tra mance e tangenti. Chi non si adegua al sistema basato sulla paura, accusato di violare il Corano, viene arrestato. Solo un'opinione è quella giusta, quella del sistema. Che è un sistema a elezioni di facciata, di fatto non cambia nulla e chi dovrebbe difenderti viene pagato per eliminarti. La polizia. E le donne sono gli inferiori degli inferiori? E qui viene detto, in modo anche qui abbastanza diretto, viene proprio detto che senta, dico, mi dispiace essere un danno, non volevo, però io, che sono una ragazza, perché dovrei convertirmi all'Islam? Essere inferiore a un uomo. Ma non è vero, dice. Per l'Islam, uomo e donna sono uguali. Esiste una diversità biologica, per cui è evidente che certe cose, tipo fare il camionista, non sono fisicamente alla vostra portata. O la guerra, la guerra non è mica adatta alle donne, dice. Non è adatta a nessuno, in realtà. Ma per il resto siamo tutti uguali, dice. Ognuno nei limiti della propria natura. E poi non c'è costrizione, dice. Il marito, se non condivide qualcosa, per esempio che la moglie lavora in un hotel in cui si serve alcol, è tenuto a spiegare le sue ragioni e al più tutto si risolve con la mediazione della famiglia. Anche perché non possono esserci dubbi, dice. Il Corano è chiaro. Se fossimo tutti musulmani, veri musulmani, non solo non avremmo bisogno di giudici e tribunali, ma neppure di legge e parlamenti, perché il Corano disciplina ogni aspetto della vita. Ed è chiaro, il Corano non lascia dubbi. Il problema, dice, è che c'è Dio, ma c'è anche Satana. E Satana è sempre all'opera. La vita è uno scontro infinito tra il bene e il male. Sa te scegliere da che parte stare. quindi il Corano, l'Islam, non è il problema, almeno così, non è sentito dalla popolazione. I problemi sono questi, questi esposti. E tutti i sunniti, tutti i sunniti, vediamo anche questo aspetto interessante. tra l'altro alle Mardive non circolano armi, armi da fuoco, sono coltelli. In Medio Oriente, invece, ogni città ha un mercato delle armi, nel senso proprio di un mercato. Si vendono, così, per strada, in mezzo alle arance e le mele, e non solo fucili, pistole, al mercato delle armi di Baghdad tu trovi tutto, ti dicono con orgoglio, tranne un aereo. Poi magari, non avessero armi, si prenderebbero a testate. Ma dicono che avere tutti un Kalashnikov in casa non semplifica le cose. Qui invece hai solo coltelli, fortunatamente. I ragazzini sono in strada. Quindi, vedete, questa è un po' il quadro, la situazione, che non è quella tragica di altri paesi musulmani, ma non è nemmeno questa pacchia e questo paradiso per la popolazione locale. Passiamo da questo reportage dell'Islam sunnita a un excursus storico, come vi dicevo, compiuto nel mondo del mondo iraniano, shita, quindi, shiti e sunniti, questi due grandi, grandi divisioni dell'Islam. E qui è compiuto da Anna Van Zan, una islamologa e iranologa, e la nostra attenzione sarà tutta concentrata, proiettata verso questa letteratura persiana femminile, estremamente particolare, che ha origine nei ginecei, delle famiglie patrizie, nell'Iran ottocentesco, molto affascinante, fino ai giorni nostri, quindi un vero e proprio excursus per gli iraniani in patria e per milioni di esuli in diaspora. Si svela un mondo velato, donne che viaggiano molto, tra pellegrinaggi alla Mecca e visite ai santuari di imam canti sufi mistici dell'Arem fino ad arrivare a una lenta, lentissima emancipazione. Conoscerete qui le liriche coraggiose di Taeret nata da una famiglia sciita nel 1918 e si converte al babismo e girovaga dall'Iran all'Iraq alla Turchia aderisce all'immaginario sufi ma lo colma di intensa carica erotica. Quindi una cosa che veramente mi ha stupito due per la verità sono veramente un erotismo molto diffuso credevo che ci fosse molta più repressione da parte delle donne molta più ritrosia pudicizia invece veramente molte liriche sono dense di erotismo anche direi piuttosto esplicito e anche un altro aspetto che mi ha stupito che non credevo è che queste donne girano girovagano dalla Turchia all'Iran all'Iraq e si rimane proprio stupiti dalla forza di queste donne come questa Bibi Kanum che ecco lei usa veramente un linguaggio diretto franco esplicito riguardo anche una certa anedottica che ricorda Boccaccio Boccacesca quasi viene detta riferimenti ai mariti omosessuali che vengono castrati che fumano oppio che giocano d'azzardo fa veramente ricorso a un linguaggio che sembra provocatorio perché non è purgato depurato e si rifà a una tradizione persiana orale dove parecchie sono le immagini oscene quindi è proprio anche nella tradizione stessa a cui si vanno ad attingere una tradizione per riportarla a noi occidentali io uso il termine boccacesco o carnascialesco i canti carnascialeschi anche noi abbiamo proprio una tradizione di questo tipo e anche loro similare quindi in questo senso piuttosto triviale o scena diretta da leggere in determinate occasioni i vissi degli uomini rappresenta un caso unico di prosa colta e al contempo volgare questi contrasti mi piacciono particolarmente infarcita di citazioni dotte e religiose e anche scurrili quindi veramente mi piacerebbe riuscire a leggerlo questo testo e amo i contrasti amo giocare sui paradossi sui contrasti esempio stupefacente della vasta gamma di possibilità di queste donne e di come queste utilizzano quindi anche strumenti diversi registri stilistici diversi il femminismo iraniano inizialmente è un fenomeno d'elite naturalmente perché è solo le donne colte capiscono certi meccanismi e poi si impegnano e traducono questo in un impegno sociale nei primi anni del novecento solo il 3% delle donne era alfabetizzato cominciano a nascere le prime associazioni i bollettini per diffondere le proprie idee qui proviamo proprio testimonianza e che costituiscono il primo caso proprio di giornalismo femminile attivista islamico le attiviste evitano un'aperta critica all'islam anche qui come qui non si critica l'islam non si critica il corano ma c'è la critica a un sistema un sistema in mano agli uomini agli imam per soggiogare le donne questo sì temi veramente molto interessanti e ve ne do un assaggio temi maggiormente trattati da questa stampa proto-feminista sono la richiesta di innalzamento ad almeno 16 anni del limite di età consentito per una ragazza per poter contrarre matrimonio questa è una problematica molto grave a cui le donne si impegnano come altre zone dell'Asia l'Iran soffre della piaga delle spose bambine l'estensione alle donne della facoltà di richiedere lo scioglimento del matrimonio anche questo quindi a esse è peraltro consentita dal diritto musulmano una limitata casistica di accesso al divorzio quindi è previsto anche proprio dalla loro religione il diritto a un lavoro extramenia una maggiore attenzione ai problemi legati all'igiene di madri e figli e soprattutto il diritto alla necessità da parte della donna di accedere all'istruzione superiore un tema che ai nostri occhi sembrerebbe ovvio quale l'abolizione del velo agli inizi del novecento le iraniane che vogliono mostrarsi in pubblico sono costrette a farlo a volte in lunghi mantelli ingombranti e impedenti non è invece così dibattuto ecco anche questo è un aspetto particolare noi subito indignati da questo velo da queste coperture in realtà le donne non chiedono in primis questo l'abolizione e mentre è invece pressante la richiesta di potenziare l'istruzione femminile tema che rappresenta una piattaforma comune per tutte le associazioni delle donne quindi vedete si scoprono tante cose nel documentarsi nell'informarsi e anche però nel non è solamente un reportage come poteva essere l'altro qui si parla di poesia di letteratura e Tesami poetessa che rifiuterà rifiuterà un premio del ministero dell'istruzione e che proprio perché è inferiore alle sue aspettative era estremamente severa con se stessa bruciava le poesie che non la soddisfavano più che una femminista era una donna colta che lottava per i diritti umani come intellettuale a tutto tondo e qui vi do un assaggio perché è estremamente poetica bellezza bellezza di donna non sta in una ciocca di ricci né in labbra a bocciolo o guance di rosa non nei suoi fronzoli o negli orecchini di perle non nelle scarpe lucide o nella sua camicetta di seta bellezza di donna in vero sta nella perfezione della sua onestà cosicché essa diviene l'eterna luce che illumina ogni consesso o zefiro chiedi agli uomini al posto mio perché in questo paese ci chiamano deboli se sono debole perché è mio compito nutrire i futuri rostam sforzatevi o donne di coprirvi con le vesti della conoscenza quando succederà ne sarete felici parola di Fakri il sapere è così dolce che come novelle Farad continuerete a cercarlo e quindi Fakri esorta le donne al sapere non perché è utile ma perché dà piacere compiacendosi in un gioco di parole la poetessa definisce il sapere dolce Shirin che anche il nome della donna da sempre inseguita da Farad una volta assaggiato il sapere Shirin le donne lo inseguiranno come fa Farad con Shirin personaggio il riferimento alla celebre coppia diamanti della letteratura classica persiana è accompagnato inoltre da un accenno all'eroe dell'epopea nazionale Rostam il valoroso per autonomasia con il quale gli iraniani si identificano con una punta di ironia si chiede come si possa definire deboli le iraniane se i figli che esse partoriscono sono per definizione dei Rostam quindi vi ho già detto tutto in pochissime righe si capisce cosa le donne e la forza di queste donne la loro determinazione vuole non gli interessa se sono velate o meno non è la cosa principale la cosa principale è la cultura è il sapere sono i diritti umani e un documento proprio veramente delle condizioni femminili ancora vi voglio citare Simin Dhaneshwar laureata in letteratura persiana nel 1948 pubblica la prima raccolta di racconti brevi mai pubblicata da una donna in Iran e non è un capolavoro lo ammette anche lei ma un vero e proprio documento delle condizioni femminili sottomesse delle donne sottomesse al marito donne che abbandonano il figlio al mercato per seguire degli amori clandestini attrici costretti ad abortire per assecondare un ammiratore donne etere e orribili megere descritte con un certo distacco nel 1962 il marito pubblica una satira tagliente sugli iraniani che adottano costumi occidentali e abbracciano il consumismo e Simin accoglie l'ottica del marito la rielabora scrivendo il bestseller in lingua iraniana di tutta l'epoca contemporanea lamento funebre che vorrei trovare lo sto cercando del 1969 un affresco dell'iran durante la seconda guerra mondiale ambientato a Shiraz città natale dell'autrice luogo ricco di simboli vi sono seppelliti i poeti di spicco della letteratura iraniana ed è un luogo strategico tra il flusso di rifornimenti tra l'India il Medio Oriente e la Russia occupata dagli inglesi e dai russi raggiunti dagli americani penetrano delle idee comuniste e anche altre influenze quindi un testo che rendono questo romanzo proprio un romanzo simbolo di lotta e di speranza e nel 78 79 le donne iraniane sono impegnate nella lotta rivoluzionaria anti-Shiad e nel 63 ottengono il diritto di voto inizia una vera e propria emancipazione però i proclami di Comeini portano un regime teocratico e un sorenne dietro Fron e c'è veramente una delusione da parte di queste donne nasce una sorta di femminismo di stato incoraggiato dai fautori della modernità ovvero dell'occidentalizzazione i quali offrono protezione e legittimazione al movimento delle donne purché queste si prestino ad assecondare le politiche della corona tuttavia questo connubio porta anche alcune conseguenze positive fra i risultati più significativi ricordiamo l'aumento della presenza delle donne in tutti i settori della vita pubblica iraniana alla fine degli anni 40 si cominciano a registrare le prime donne avvocato le prime accademiche poi appunto come vi dicevo abbiamo il diritto di voto nel 63 e nel 67 entra in vigore la legge per la protezione della famiglia nata allo scopo di migliorare le precedenti leggi riguardanti il diritto di famiglia la legge porta il divorzio all'interno dei tribunali ai quali ogni marito deve rigorosamente appellarsi per conseguire la fine del matrimonio stabilendo inoltre che qualora un uomo voglia prendere una seconda moglie sia necessario il permesso della corte nonché quello della prima consorte anche questo è non da poco quest'ultima se dissente ha la facoltà di chiedere il divorzio anche questo non da poco nel 75 dopo un'intensa campagna portata avanti dall'associazione delle donne avvocatesse viene inserito un ulteriore emendamento il nuovo atto innanza a 18 anni per le ragazze e a 20 per i maschi l'età per poter contrarre matrimonio ribadendo la necessità del permesso della prima moglie quindi donna emancipata ma e tante cose vengono ottenute e purtroppo però qui devo concludere questo video dicendo che con Comeini c'è stato questo grande passo indietro le donne che tanto hanno fatto per consentire il successo della rivoluzione si sentono tradite e scendono spontaneamente in piazza migliaia ma è tutto inutile quelle che non accettano di andare al lavoro velate vengono licenziate le leggi di famiglia varate a protezione delle donne vengono abolite viene resterata la poligamia si abbassa di nuovo l'età minima per contrarre matrimonio si saura un rigido controllo statale un'interferenza ossessiva in ogni aspetto della vita pubblica e privata sia degli uomini che delle donne quindi con l'avvento poi al potere di Muhammad Qatami primo ministro della cultura e presidente della repubblica islamica però i lacci del regime si allentano e negli anni 90 l'Iran si ritrova con una popolazione giovanissima desiderosa di vivere come coetanei del resto del mondo e con una popolazione femminile altamente istruita che pretende un posto e un riconoscimento all'interno della società e quindi voglio finire con questa nota in positivo ci auguriamo veramente che queste battaglie non siano state combattute a vuoto e che comunque la storia possa davvero insegnare una parità un'emancipazione una libertà per tutti donne e uomini grazie alla prossima